Preoccupazione e senso di insicurezza dopo la sparatoria a Trapani di sabato scorso. Nella notte tra sabato e domenica un giovane GM impiegato nei locali notturni è stato vittima di un agguato a colpi d'arma da fuoco in via Calatafimi a Trapani. La sparatoria è venuta nei pressi di un noto locale della Movida Trapanese e al momento non è chiaro se i responsabili fossero legati alla vittima o provenissero da un'altra direzione. Il giovane è stato prontamente trasportato al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate mentre gli investigatori della scientifica e della squadra mobile stanno lavorando per ricostruire l'accaduto. Sebbene si ipotizzi un regolamento di conti legato alla micro criminalità tutte le piste sono al momento aperte. Trapani non è estranea ad episodi di violenza con precedenti sparatori e risse che hanno scosso la città negli anni passati.